Buongiorno, dobro jutro, guten morgen, bondi. Bempo, mi diceva George, tu non torrivis non ti a immaginare, c'è calul di scommetti la vita su una persona, su una femmina, e poi che ti abbandoni. Tu resti splanati, ti vieni scuro davanti a voi, non tu sass d'ora là, non tu sass c'è fa, tutti sanno di noi. E, ha succeduto questo? E bisogna andare davanti. Come là in davanti, sono una strada piena di classi e di scuola, con i piedi sanguinati proprio a te. Allora, partendo da questa mia condizione, quando un mio amico ha la difficoltà di s'inchiare con la femmina, ho chiesto di che si rimpine intorno, che il bene che al resto è il rapporto con i piedi. Ma non mi capisci, mica ve. Non sanno c'è che si patisce, quanto si viene molato, e anche quanto si mole, ho pensi. Poi bene, io ho avuto che mi capisci in nome di quei che hanno avuto la mia stessa esperienza. Allora, lì sì, essicciate in speraulis justi, per consolarsi un con che l'altro. Buona giornata e buona vita! Grazie!